Grande evento, dopo cent'anni dalla sua fondazione, l'Associazione degli Alpini qui a Milano, ritorna con questa grande manifestazione. Credo non ci sia molto da dire, gli alpini sono una parte fondamentale del volontariato, sono quelli che hanno iniziato questa grande attività a favore del territorio. Io lo dico sempre che da sindaco devo dire grazie a tante volte che sono intervenute, alle tante attività che hanno svolto e alla grande capacità di stare in mezzo alla gente, di ascoltare le esigenze della gente. Credo che siano veramente qualcosa di particolarmente importante sul nostro territorio, che è un territorio oltretutto di montagne e quindi oltretutto montagne alle quali noi stiamo dedicando molta attenzione perché bisogna salvaguardare il territorio, bisogna salvaguardare la gente che ci abita, bisogna evitare lo spopolamento, per cui tutti gli argomenti ai quali noi siamo molto legati. Lei parteciperà a questa fetta? Sicuramente, domenica sarò presente.